Don Luca, questa iniziativa è una cosa importante per la Caritas? Sì, è una giornata veramente splendida oggi perché ci permette di avere la provvidenza in casa, cioè avere generi alimentari per dare speranza a chi la sta cercando da noi. Quindi è un momento in cui, come raccontavo un po' ai nostri amici che ringraziamo tutto il cuore, stiamo ancora dando risposta a povertà che non è diminuita ma è attualmente presente. Sicuramente ricordavo coloro che Caritas è di fronte a mille pasti al giorno e di fronte a tanti clienti, ai miei fidelizzati, dico ai miei perché i nostri clienti quando sono tanti non è un buon segno, del nostro Emporio, Emporio che ha su due sedi, qui alla Spezia e a Sarzana. E quindi avere questa, dicevo, provvidenza è veramente il sostenerci nell'entusiasmo di non mollare anche di fronte alle tante richieste un po' di stanchezza che può sopraggiungere e poi vedere cose concrete che vanno poi a sostegno di chi è in difficoltà, di chi è nel bisogno. Voglio ringraziare sentitamente il Lions perché tutti gli anni ha sempre questa grande attenzione e delicatezza per noi e vi ringrazio veramente con tutto il cuore. Ringrazio Antonello Occhipinti perché è stato nel suo entusiasmo, nel suo donarsi in questa avventura, ci ha messo in contatto e ha creato la possibilità di questo evento concreto, ripeto. E poi grazie a tutti voi perché la generosità degli spezzini è sempre evidente, palpabile. In questo senso lo tocchiamo con mano. La gente che si vede arrivare a casa a una spesa o che viene a prenderla qui all'Emporio vede che c'è tanta gente che si prende cura anche di chi non ha voce, non ha attenzione, forse è un po' scartato, però grazie a queste cose si sente considerato e voluto bene. Anche quest'anno i Lions hanno avuto l'attenzione per chi è in difficoltà. Anche quest'anno, come l'anno scorso del resto, abbiamo pensato di raccogliere degli alimenti per poterle dare alle famiglie che sono in stato di necessità. Grazie anche alla collaborazione della Conad di Santo Stefano, che gentilmente si è prestata a questo intervento, siamo riusciti a regalare e speriamo di poterlo fare anche nel prossimo futuro, questi alimenti che in questo momento, anzi non sembra, sono necessari, indispensabili proprio per queste famiglie. Questa iniziativa rientra nelle finalità proprio dei Lions, vero? Certamente. I Lions si pongono sempre ogni anno delle aree tematiche sulle quali operare. Una di queste è proprio la povertà, aiutare le persone che hanno necessità e questo, anche questa iniziativa, è la dimostrazione che noi non siamo Lions per essere, ma siamo dei Lions per fare. Questa iniziativa potrebbe essere di esempio anche su tutto il territorio. L'emporio delle povertà è aperto a qualsiasi donazione e quindi chiunque abbia la voglia o l'opportunità di farlo, può farlo recandosi qui. Questa iniziativa potrebbe essere di più.